Il corso di svolgimento a Manduria, la sesta edizione di Forum in Masseria, la tre giorni di Bruno Vespa all'insegna della nuova Europa e del ruolo dell'Italia nel contesto internazionale. Questa mattina, tra i relatori, i ministri Calverone e Schillaci, nel pomeriggio ci saranno Piantedossi ed Emiliano. Le forze dell'ordine stanno scandagliando gli ambienti di pregiudicati specialisti in assalto di portavalori, proseguono senza sosta le indagini sul clamoroso furto avvenuto giovedì scorso sulla strada Brindisi-Lecce. Luigi Leonetti intanto confessò di aver ucciso sua moglie a coltellate lo scorso 28 novembre alla presenza di figli piccoli. Il giudice per le indagini preliminari di Trani lo ha rinviato a giudizio. E' stato eletto la quarta votazione il nuovo presidente del Consiglio regionale della Basilicata. Si tratta dell'ex governatore Lucano Marcello Pittella, oggi tra le file di azione. Per la nuova giunta Barbie bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Buon pomeriggio e benvenuti al Tg di Puglia e Basilicata. Su Antenna Sud in primo piano il poker di Ministri a Manduria per il forum in Maseria promosso da Bruno Vespa. Ci colleghiamo subito in diretta con il direttore Gianni Sebastio per le ultime novità rispetto di una mattinata ricchissima con temi importanti e ministri che ne hanno parlato oggi pomeriggio, poi altri ministri, ma anche il governatore di Puglia. Buon pomeriggio direttore a te la linea. Buon pomeriggio Gianmarco in diretta dalla Masseria Lireni a Manduria, Masseria di Bruno Vespa. Oggi il secondo giorno per il forum in Masseria si è parlato di lavoro e di salute con i ministri Calderone, ministra al lavoro e il ministro della salute Schillaci. La prima ha parlato dell'intelligenza artificiale, ha detto che deve essere di supporto ai lavoratori. Inoltre è necessario, ha aggiunto, che sia più fluido il rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro. Infine ha parlato di un aumento su tutto il territorio nazionale, ma in particolare sul territorio del mezzogiorno dei contratti a tempo indeterminato e questo significa che le imprese stanno investendo. Il ministro della salute, Orazio Schillaci, invece si è soffermato particolarmente sulle liste d'attesa, annunciando una piattaforma di monitoraggio e un conseguente osservatorio per far sì che possano essere abbattuti i tempi d'attesa, detto impossibile e vergognoso che ci siano due anni anche per un esame. Ha parlato anche di voler arrivare a un CUP con un numero unico a livello regionale. Quindi i due ministri sono saliti sul palco di Bruno Vespa. Tra pochissimo sentiremo le loro dichiarazioni. Intanto, come dicevi, nel pomeriggio ci sarà alle 15 il vice ministro alle finanze, Maurizio Leo, poi alle 16 il governatore di Puglia Michele Emiliano e infine chiuderà questa seconda giornata il ministro dell'Interno Piantedosi. Intanto ascoltiamo le dichiarazioni dei ministri Calderone e Schillaci e poi la linea può tornare allo studio. Questa è un'emergenza che c'è e c'è da tantissimi anni. Io credo che sia giusto anche sottolineare questo aspetto. Non perché ci si deve, come dire, anche sottrarre le responsabilità. Io non l'ho mai fatto perché credo, da ministro del lavoro e delle politiche sociali, invece di aver sin da subito manifestato la mia massima attenzione a un tema che è un tema assolutamente importante e cruciale. Però se noi guardiamo ai numeri, quando li commentiamo, dobbiamo guardare anche a come sta crescendo e come sta evolvendo il mercato del lavoro. Perché dico questo? Perché rispetto a quelli che erano i numeri anche degli infortuni e degli infortuni mortali degli anni scorsi, anche prepandemici, oggi siamo ai livelli più bassi di sempre, soprattutto se rapportati al numero di occupati che abbiamo. Perché tutto questo deve essere sempre collegato a una platea che ha per ogni anno, negli ultimi anni, 500 mila lavoratori in più. Le regioni che hanno la capacità economica di assumere più personale sociosanitario fino al 5% in più e poi un cambio di passo vero dal 2025 con un calcolo nuovo del personale basato sui fabbisogni, cioè capire finalmente quante operatori sanitari servono per un determinato reparto e questo io credo che sarà importante anche perché non possiamo pensare di abbattere le liste di attesa non incrementando il numero di operatori sanitari all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Guardi, questo è un argomento che verrà poi discusso dal governo nel momento in cui parleremo di autorità. Sanitario elettronico, lei ha detto che sarà il traino dell'Italia digitale, il tema della sicurezza dei dati come lo garantisce? Il tema della sicurezza dei dati viene affrontato con l'autority per la protezione dei dati, c'è un'ottima sicurezza dei dati, i dati non saranno a disposizione ovviamente di terzi, il fascicolo sanitario elettronico è fondamentale, è fondamentale per avere una sanità più moderna ed è fondamentale per superare le diseguaglianze. Adesso facciamo un passo indietro perché anche nella prima giornata, quella di ieri, ci sono state dichiarazioni importanti su temi altrettanto importanti per tutti. Ascoltate una sintesi. Si rinnova la calata dei Big a Manduria, tutto in un weekend, da venerdì fino a domenica mattina. Alla masseria Lireni, Bruno Vespa rinnova il suo appuntamento con la politica e si accendono i riflettori nazionali sulla città messapica. Forum in masseria giunge alla sua sesta edizione. Nella prima giornata ci sono i vicepremier Tagliani e Salvini, ma anche il ministro per l'ambiente, Picchetto Fratin. La valutazione sull'inchiesta della procura di Taranto in merito alla presunta truffa ai danni dello Stato sulle emissioni di acciaieri d'Italia? Guardi, in questo momento gli elementi, io non ho elementi per fare la valutazione, io dico che è giusto che la magistratura faccia il suo corso, al momento ha sequestrato tutta la documentazione relativa anche agli ETS che sono stati assegnati ad ILVA. Pertanto aspettiamo un attimo i risultati di quella che l'indagine è in corso. La sfida pugliese è una sfida che riguarda grandi impianti anche e l'idrogeno può essere il vero vettore energetico per far funzionare un grande impianto come quello dell'ILVA. Ma questo non solo, può essere davvero la produzione di idrogeno anche su altre realtà, adesso parlavamo di Taranto, ma possiamo trasferirsi a Brindisi nella reindustrializzazione dell'area di Brindisi a seguito di quella che ci sarà la chiusura dell'impianto a carbone, ecco può essersi un percorso anche in quel luogo. Noi vigileremo con grande attenzione e non lo faremo con spirito polemico, io non penso che ci sia la banda Bassotti, penso soltanto che una norma applicata male può invece che ridurre le distanze tra il nord e il sud, può acuirle e io voglio invece che accada l'esatto contrario, che grazie all'autonomia si possono ridurre le distanze tra il nord e il sud. In chiusura Salvini annuncia che l'aeroporto di Milano Malpenza sarà intitolato a Silvio Berlusconi. Le forze dell'ordine stanno scandagliando gli ambienti di pregiudicati, specialisti in assalti e i portavalori proseguono senza sosta alle indagini sul clamoroso furto avvenuto giovedì scorso sulla Brindisi Lecce, tutte le auto utilizzate per l'assalto erano state rubate diverse settimane prima in provincia di Bari. Un assalto paramilitare organizzato nei minimi dettagli e dunque compiuto da una banda con all'interno professionisti del settore, con ogni probabilità già protagonisti di altri colpi di questo genere. Partono da qui le indagini sull'assalto al portavalori avvenuto nella mattinata di giovedì 4 luglio sulla strada statale 613 che collega Brindisi con Lecce. Prende consistenza pertanto l'ipotesi che i banditi fossero di fuori. I carabinieri stanno scandagliando la regione e non solo, con particolare attenzione alla zona nord della Puglia partendo da gruppi e persone con precedenti penali simili. Va in questa direzione l'inchiesta del pubblico ministero della procura di Brindisi Francesco Carluccio. Il piano era studiato alla perfezione, a cominciare dalla cosiddetta gabbia costruita per incastrare il furgone portavalori e rallentare l'arrivo delle forze dell'ordine. 6 auto e un furgone, tutte rubate diverse settimane prima nella provincia di Bari, incendiati per chiudere la strada in entrambi i sensi di marcia. E poi le modalità dell'assalto senza feriti, nonostante le raffiche di mitragliatori AK-47, fucili da guerra per intenderci, per spaventare le guardie giurate. Un cric alza il mezzo e la carica di esplosivo, poiché sbriciola il furgone ma lascia intatta gran parte del bottino. Intanto, tra qualche giorno, giungeranno i rinforzi annunciati dal capo della polizia Vittorio Pisani nel corso del vertice che si è tenuto in prefettura a Brindisi. Luigi Leonetti confessò di aver ucciso sua moglie a coltellate lo scorso 28 novembre alla presenza dei figli piccoli. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani lo ha rinviato a giudizio. Luigi Leonetti, il 51enne di Andrea, che lo scorso 28 novembre avrebbe ucciso a colpi di coltello sua moglie, Vincenza Ingrisano, è stato rinviato a giudizio dal gruppo del Tribunale di Trani. L'accusa è di omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi e di aver commesso il fatto alla presenza dei figli minori, rispettivamente di 6 e 12 anni. Ci sono inoltre le ipotesi di maltrattamenti in famiglia e lesioni colpose. È stato lo stesso Leonetti, attualmente detenuto nel carcere di Lucera nella sezione che ospita chi si macchia dei reati particolarmente gravi, a chiamare i carabinieri dopo la tragedia, ammettendo le proprie responsabilità. La prima udienza, che si celebrerà davanti alla Corte d'Assise di Trani, è stata fissata per il prossimo 27 settembre. Nel corso dell'udienza preliminare, i familiari della vittima si sono costituiti parti civili e hanno avanzato una richiesta di risarcimento danni di circa 2 milioni e mezzo di euro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giorno in cui è stata uccisa, Vincenza aveva detto a Leonetti prima di uscire che quella sera non sarebbe tornata a casa. La donna, però, intorno alle 17, è rientrata per accompagnare a casa il più piccolo dei loro due figli. È andata in bagno e qui il marito l'ha colpita per almeno tre volte al torace e all'addome, uccidendola. L'uomo ha poi chiamato il 118 a cui ha confessato il delitto e ha chiesto aiuto, ma il personale sanitario, al suo arrivo, ha potuto soltanto constatare il decesso della vittima. Le parti civili sono rappresentate dagli avvocati Mario Malcangi, Alessia Grimi e Lucia Corraro. La curatela dei due minori è rappresentata dall'avvocata Annalisa Iacobone, mentre l'imputato è difeso dal legale Savino Arvore. Parliamo adesso di politica regionale e movimenti in corso nella giunta. Salvo colpi di scena sarà Raffaele Piemontese a prendere le redini della sanità pugliese, assessore al bilancio, vicepresidente della giunta Michele Emiliano avrebbe pensato a lui per ereditare le chiavi dal tecnico Roccopalese che pure dovrebbe continuare a gravitare intorno al governatore con un ruolo tutto da costruire. L'ultimo nodo sta nella delega economica attualmente nelle mani del democratico Foggiano, che potrebbe essere ceduta o mantenuta dallo stesso piemontese in attesa di un restyling ulteriore dell'esecutivo regionale o almeno degli assestamenti al documento contabile previsti entro fine mese nel parlamentino di Via Gentile. D'altro canto, la questione è già prodata nell'escorsione anche nella direzione regionale PD che si è riunita per il post-voto delle europee e per accelerare sulla composizione del comitato per il referendum sull'autonomia differenziata. Martedì intanto si torna in aula per le leggi a partire da quella contro l'homo lesbo di transfobia. Dal governo di Puglia a quello di Basilicata è stato eletto presidente del Consiglio Pitella. Sette schede bianche, tredici schede Pitella. È Marcello Pitella il ventisesimo presidente del Consiglio regionale della regione Basilicata. Eletto alla quarta votazione l'ex governatore Lucano va dunque ad occupare lo scranno più alto in sala di Nardo. Successivamente alla elezione è stato completato anche l'assetto dell'ufficio di presidenza con Chiorazzo, Basilicata Casa Comune, Fazzari, Fratelli d'Italia, vice presidenti e Aleandro, Forza Italia e Verri, Movimento 5 Stelle, segretari. Essere presidente della massima assiste regionale ti consegna una grande responsabilità e ti dà anche una serie di possibilità a seguire le criticità che ci sono in regione, portarle in Consiglio perché quello è il luogo del controllo, della direzione strategica, della programmazione, della verifica, dei risultati. Per quanto riguarda invece la composizione della Giunta, il presidente Bardi ha ufficializzato solamente lo schema formato da due rappresentanti di Fratelli d'Italia, uno della Lega, uno di Forza Italia e uno di Orgoglio Lucano. Per l'ufficializzazione di nomi e deleghe bisognerà attendere il prossimo Consiglio in programma martedì 9 luglio. Attualmente l'ipotesi più plausibile vedrebbe Cicale Latronico di Fratelli d'Italia rispettivamente all'agricoltura e alla sanità, Cupparo Forza Italia alle attività produttive, Pepe Lega ad Ambiente e Infrastrutture, mentre l'assessorato al bilancio e alla programmazione che spetterebbe ad Orgoglio Lucano potrebbe essere occupato da un'assessora esterna. Il nome che circola in queste ore è quello dell'ex deputata materana Maria Antezza. Io credo che fra lunedì e martedì avremo l'aggiunta al completo in modo che possa lavorare ognuno con le proprie deleghe e soprattutto mettere avanti quelle che sono le difficoltà e risolvere i problemi dei Lucani. Andiamo a Roma adesso alla mappatura delle campagne, pene più severe per contrastare il lavoro nero e caporalato. Scopriamo quali sono le misure messe in campo dal governo con il nostro corrispondente nella capitale. L'obiettivo del governo dopo i fatti di Latina è quello di mettere fine al caporalato, saremo in tutte le campagne e utilizzeremo ogni strumento a disposizione affinché la sinergia tra i dati disponibili ci permetta di intervenire sulle irregolarità laddove sappiamo che ci sono situazioni gravi, ha affermato il Ministro del Lavoro. Nel decreto agricoltura è stata infatti inserita la previsione di un sistema informativo per il contrasto al caporalato che consente di incrociare le banche dati dei Ministeri del Lavoro e delle politiche sociali con quelle di IMSS, ENAIL e alti enti preposti. Abbiamo anche ripenalizzato il reato di appalto illecito di mano d'opera perché siamo consapevoli che laddove c'è una gestione impropria di quelli che sono gli strumenti, anche i contratti di lavoro, c'è anche una maggiore incidenza del rischio che poi ci sia una errata applicazione o una sottovalutazione o una trascuratezza totale sul tema della salute e della sicurezza. Tutelare gli infortunati sul lavoro dunque ma ancora di più prevenire che gli infortuni avvengano. La continua necessità della formazione, dell'educazione e della prevenzione perché il problema è della sicurezza del lavoro che è una cosa un po' diversa dallo sfruttamento e talvolta anche la conseguenza della mancata formazione, della mancata educazione e della consapevolezza e del rischio che si corre sui luoghi di lavoro. Ieri sera in Piazza Duomo a Lecce si è tenuto il concerto della banda musicale della Polizia di Stato nell'ambito del progetto sulla legalità di refare e cambiare i ragazzi la memoria e l'impegno alla presenza tra gli altri di piante dosi, fitto e pisano. Piazza Duomo nell'escorsione è stata onorata dalla splendida esibizione della banda della Polizia di Stato diretta magistralmente dal maestro Maurizio Billi. Questo concerto è stato il culmine del progetto di formazione sulla legalità intitolato dire, fare e cambiare i ragazzi la memoria e l'impegno promosso dalla questura di Lecce in collaborazione con scuole, associazioni e parroci. Credo che ricordare significa proprio riportare al cuore, credo che sia fondamentale che la gente che c'è qui oggi riporti al cuore la storia di Antonio. Tra gli ospiti d'onore presenti all'evento c'erano il ministro dell'interno Matteo Pientedosi, il capo della Polizia Vittorio Pisani, il sindaco di Lecce Adriana Polibortone, l'arcivescovo di Lecce Monsignor Seccia, il presidente della regione Puglia Michele Emiliano, il ministro Fitto e il presidente della settima commissione al senato Roberto Marti e tanti parlamentari. Un'occasione per non dimenticare, non dimenticare direi mai. Il pubblico è stato accolto dalle vivaci melodie della Carmen, seguita da un duetto tra il sassafonista Raffaele Casarano e la voce e la chitarra di Tony Bungalo nel brano Sanremese, Io non ho paura. Successivamente i due artisti salentini si sono uniti alla banda in una commovente esecuzione di guardastelle. La madrina della serata, Maria Grazia Cucinotta, nota per il suo impegno sociale attraverso la recitazione, ha ricordato le difficoltà affrontate nella sua Sicilia Natale a causa della criminalità. Il questore di Lecce, Massimo Modeo, ha sottolineato l'importanza di sottrarre i giovani alle devianze. Non è una manifestazione autocelebrativa, è soltanto celebrare il motto della Polizia di Stato, esserci sempre. E quindi sembra questa sera fare il punto della situazione per ripartire con ancora più celerità e vicinanza ai cittadini. Il ministro Piantedosi ha esortato tutti a osservare un codice etico, ribadendo l'importanza dei valori come la legalità e l'impegno per un futuro migliore. Questo è un progetto che si è nutrito molto dell'elemento della memoria. La memoria deve essere essenzialmente quella, la capacità di riuscire a fare di tragedie del passato un impegno civile per il futuro. E per la prima volta invece in Basilicata c'è stata la fanfara del IV Regimento a Cavallo dell'Arma dei Carabinieri nel Parco Naturale della Grancia, nel comune di Brindisi di Montagna. Un evento unico e coinvolgente, quello portato in scena dalla fanfara del IV Regimento a Cavallo dell'Arma dei Carabinieri, nella suggestiva cornice del Parco Naturale della Grancia di Brindisi di Montagna, che dal 6 luglio ripartirà con la nuova stagione della storia bandita, i Carabinieri, maestri nell'arte musicale e abili cavalieri, hanno allietato le oltre 2.500 persone a corse che hanno potuto assistere anche ad una dimostrazione congiunta dei Carabinieri del Nucleo Cinofili e del Nucleo Artificieri Antisabotaggio del Comando Provinciale di Potenza. Oggi è una giornata di festa, è una giornata di festa per noi Carabinieri ma credo per tutta la popolazione lupana che è qui intervenuta. Ci troviamo in questo splendido scenare che è una delle bellezze di questa nostra regione. Abbiamo pensato di organizzare questo evento, di portare la prima volta in Basilicata la fanfara del Regimento a Cavallo e la risposta del pubblico è stata appassionata e piena di bimbi gioiosi. Avvicinano la gente all'Arma dei Carabinieri, quindi oltre al servizio istituzionale che di turno facciamo, quindi con le nostre stazioni carabinieri che sono presenti qui in Basilicata, veramente in quasi ogni comune. Questo è un evento per avvicinare ancora di più la gente all'Arma dei Carabinieri, ma credo che sia anche un modo per far conoscere, ve lo ripeto, una delle bellezze della Basilicata e della nostra bella provincia. Quale preludio migliore di ospitare per la prima volta in Basilicata questo evento unico, il quarto reggimento dell'Arma dei Carabinieri a Cavallo? Un evento che abbiamo iniziato a mettere in piedi subito dopo Sanremo, quando si è esibito in prima serata sul Rai 1 come inizio dell'edizione del festival, noi abbiamo voluto iniziare questa edizione 2024 di Grancia con lo stesso evento. Sono convolati a nozze un poliziotto e un'atleta paralimpica e sono arrivati anche gli auguri della Premier Meloni a Trani, il matrimonio tra Ilarione e Ilaria affetta da SMA. Un matrimonio straordinario si è celebrato nei giorni scorsi tra due giovani innamorati, Ilarione e Ilaria, una coppia speciale che ha conquistato i cuori di tutti con la loro storia unica e rara. Ilarione, poliziotto ventottenne originario di Trani, nonché recente acquisto della questura della BAT, ha trovato l'amore della sua vita in Ilaria, una trentenne di canosa di Puglia, coraggiosa e determinata, fin da piccola alle prese con la sua battaglia contro una forma di atrofia muscolare e spinale. Fin dal nostro primo incontro ci siamo legati indissolubilmente, può sembrare paradossale, ma la disabilità di Ilaria è stata sempre un elemento che mi ha fatto pensare a quanto la vita, con le sue mille sfaccettature, abbia potuto regalarmi una persona come mia moglie, capace di comprendermi e di avere come me una visione priva di etichette, più comprensione verso se stessi ed empatia verso il prossimo. Queste le parole dello sposo rilasciate sui canali ufficiali della questura della BAT. La cerimonia, ufficiata in una splendida chiesa storica della città della Pietra, è stata una toccante manifestazione di gioia e amore. Gli amici, la famiglia e tutti i colleghi hanno reso omaggio alla bellezza del loro legame. Il questore della sesta provincia pugliese, Alfredo Fabrocini, unitamente agli uomini della questura di Vede l'Indipendenza, ha partecipato personalmente alla celebrazione. La polizia di Stato, a cui Ilario appartiene con orgoglio sin dal 2021, non poteva mancare in un momento così importante della sua vita, nonostante le sfide che la vita loro ha riservato. Ilaria e Ilarione sono un esempio di amore, forza e determinazione. Olio extravergine ed oliva contraffatto ed adulterato, sequestrati oltre 37.000 litri nel Foggiano dalla Guardia di Finanza. Commercializzavano olio extravergine ed oliva contraffatto ed adulterato. Sono oltre 37.000 litri di prodotto illegale sequestrato dai finanzieri della compagnia di Cerignola nel Foggiano e tre le persone denunciate con le accuse di commercio di sostanze nocive e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, di cui due anche per violazioni amministrative relative all'assenza di indicazioni sulla tracciabilità dell'origine e della qualità del prodotto alimentare. Durante le attività di controllo economico del territorio le fiamme gialle hanno individuato, in aree diverse dell'agrocerignolano, tre capannoni in cui veniva prodotto olio che sarebbe stato commercializzato come extravergine di oliva, ma in realtà proveniente, come hanno documentato le analisi svolte dal personale dell'ARPA Puglia, da una miscelazione di olio di semi di girasole ad alto contenuto di acido linoleico con aggiunta di sostanze coloranti come clorofilla e betacarotene in misura superiore ai limiti ammessi per gli oli destinati al consumo alimentare. La miscela veniva poi confezionata in taniche e lattine sulle quali erano apposte indicazioni attestante la qualità extravergine del prodotto per essere poi commercializzate. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati tutti gli strumenti e le attrezzature utilizzate per il confezionamento, imbottigliamento e miscelazione dell'olio d'oliva contraffatto, tra cui 15 cisterne di grandi dimensioni, pompe aspiratrici, imbottigliatrici multiple, colini, etichettatrici, soffiatrici e miscelatori, unitamente ad oltre 23.000 lattine, recanti indicazioni, olio extravergine di oliva. I saldi sono partiti, allora ascoltiamo le voci dei commercianti ma anche dei clienti. Sono partiti i saldi estivi in Puglia, un'occasione per cercare di fare affari o chissà magari trovare quell'abbigliamento, quel vestito che tanto si desiderava o che magari mancava nel proprio guardaroba. Andiamo a vedere come sta andando, ci troviamo a Badi, siamo in via Sparano, vediamo l'aria che tira. Cosa hai trovato che ti mancava? Solo una camicia, mi serviva un po' di scarpe, ho trovato tutto. No, sì presto così abbiamo trovato tutto libero. I prezzi erano nella norma alti, bassi? Giusti, giusti. Erano andato a vedere prima come erano i prezzi per controllare il ribasso, giusto. Guardi, ormai fanno i pre-saldi, quindi credo che nei saldi veri e propri non ci sia molta bella roba, però si cerca. Bene, bene, grazie, abbiamo già speso un bel po'. È un po' prestino per fare i saldi perché farli partire il 6 luglio non va bene. L'estate inizia il 21 giugno e il 6 luglio non va assolutamente bene, dovrebbero cominciare almeno a fine luglio o i primi di agosto. Sono partiti davvero bene, c'è molto fermento in città, abbiamo ricevuto un sacco di telefonate stamattina perché volevano sapere le percentuali, però la vedo in prospettiva molto bene. Cioè chi dice che è tardi, c'è chi dice che è presto per i saldi, lei da che parte sta? Allora, questo sì, la stagione vera è iniziata adesso. Secondo me anche la parola stessa, saldi di fine stagione, dovrebbero iniziare a fine stagione, quindi era più giusto farlo fino a luglio, metà agosto, ma non adesso. Però ormai sono queste le regole e ci adeguiamo anche a questo. Comuni ricicloni premiati da Legambiente, 4 sono pugliesi. E sulla raccolta differenziata, se il nord fa meglio e il sud avanza, a sorpresa cresce il numero dei comuni sempre più sensibili in fatto di sostenibilità ambientale, 4 in particolare le città pugliesi premiate nel corso dell'edizione 2024 di Ecoforum, durante il quale Legambiente ha presentato l'iniziativa Comuni ricicloni in numero 31, il dossier che fotografa e premia l'impegno dei comuni italiani nel corretto smaltimento dei rifiuti. Le città rifiuti free sono San Michele di Bari, Volturino in provincia di Foggia, Monteparano e Leporano nel Tarantino. Complessivamente nell'ultimo anno salgono a quasi 700 i centri virtuosi, l'11% in più rispetto alla precedente edizione, come spiega il direttore generale di Legambiente, Giorgio Zampetti. 700 comuni ricicloni, l'11% in più rispetto all'anno scorso, è andato molto positivo, che testimoniano come in questi 31 anni le amministrazioni comunali che hanno continuato a investire in raccolta differenziata e riduzione del secolo di sito indiscale e ha continuato ad aumentare. Sono le buone esperienze, le migliori esperienze in Italia che continuiamo a censire il primario ogni anno, ma sono anche quelle esperienze da cui dovrebbero nascere politiche virtuose a livello nazionale sulla raccolta e sul riciclo dei rifiuti urbani. Continuano gli spettacoli del progetto Le Due Bari, al Redentore si esibisce il noto attore Sergio Muniz con Tra Musica e Parole. Grandi firme e protagonisti a Bari nella seconda edizione di Tra Musica e Parole nell'ambito dell'avviso pubblico Le Due Bari. Questa volta ad esibirsi tocca Sergio Muniz che al Redentore porta in scena lo spettacolo teatrale musicale Tra le onde, insieme al trio unisono. Un viaggio nella poesia del mare, tra immagini, parole e musica, il tutto con la regia di Michele Mirabella. Allora, questo è uno spettacolo che parla di tante cose, in realtà usa il mare come esempio, il mare come modo di raccontare due realtà diverse che sono un surfista e un pescatore, che sono in realtà la stessa persona, che sono io, rappresento questi due personaggi, un'anima utopica, il surfista, cerca l'onda perfetta, vive il mare in un modo molto sognatore, molto sognante e il pescatore che vive il mare in un modo concreto, quasi cinico, visto che vive del mare e ha bisogno del mare per sopravvivere. Il mare però rimane sempre lo stesso, rimane sempre la stessa cosa. Quanto ispira questo racconto Bari e la Puglia? Quanto la sente vicino da questo punto di vista, da quello che ha potuto vedere? In realtà la Puglia, basta che ci sia il mare, già c'entra qualcosa con questo spettacolo, perché comunque è bastato sul mare. La Puglia, diciamo, quello che mi ha dato sicuramente è la produzione, una produzione pugliesse, quindi sono molto contento di questo, quindi stiamo facendo molta Puglia e quindi sono contento di venire molto spesso qui. È tutto per il nostro telegiornale di Puglia e Basilicata, adesso come sempre a seguire i TG territoriali a partire da Baribat e Foggia e poi Taranto, Brindisi e Lecce, restate con noi. Rimani connesso, scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud, più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata, seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo. Grazie.